un nuovo giorno un nuovo appuntamento con l'almanacco con l'oroscopo ciao da mauro 12 aprile e vediamo subito il santo di oggi san giuseppe moscati due i compleanni come di consueto un attore partito dal grande fratello e poi arrivato al cinema luca argentero è nato il 12 aprile del 1978 un orgoglio del nostro sport e del nostro tennis matteo berrettini nato il 12 aprile del 1996 sono pronti dalla rieta ai pesci 12 segni di oggi prima la frase aprile apriletto ogni giorno un rametto ariete nuove responsabilità professionali e grosso carico di lavoro in vista agite subito in modo concreto anche se è opportuno non trascurare la programmazione tenete alla larga un collega poco ideale e mostrate più fiducia in amore toro la spregiudicatezza vi aiuta a fare una mossa vincente in ambito lavorativo favorite le associazioni e tutte le attività in equip il vostro contributo si rivela prezioso possibilità di recuperare nelle amicizie l'armonia compromessa da piccole schermaglie gemelli positivo cambiamento d'atmosfera nella vita affettiva da una momentanea crisi scaturiscono le premesse per un rilancio buona carica di energie psicofisiche curate però l'alimentazione per rimanere in forma cancro giornata propizia per ricercare il contatto con gli altri e riattivarvi vivendo scambi senza riserve intensità in amore e capacità di cogliere le sfumature giuste che vi fanno sentire appagati stato d'animo contraddittorio invece in famiglia ottimismo alternato a momenti di ansietà leone novità e ottimismo in amore la strada infatti è tutta in discesa nel lavoro non adagiatevi sugli allori di vittorie passate perché le battaglie continuano qualche sintomo di instabilità emotiva rilassatevi un po e createvi un diversivo per la serata vergine ottime risorse intellettuali da mettere a profitto l'insofferenza le consuetudini vi porta ad affrontare il nuovo con molto entusiasmo miglioramenti economici in vista potete osare equilibri da difendere in campo affettivo il partner ha bisogno di assiduità e di conferme bilancia avete bisogno di recuperare la spontaneità delle emozioni venere vi invita a dar via libera al sentimento circostanze fortunate per chi è in viaggio vivacità di idee un'iniziativa da prendere per poter vivere meglio tra le pareti domestiche scorpione qualche sorriso in più aiuta a sciogliere le tensioni in famiglia tenetene conto nel lavoro non accettate compromessi e vivete la vostra spinta dinamica verso una positiva innovazione in amore semplificate e seguite la via del cuore sagittario vi sentite più sereni e disponibili verso gli altri un'amicizia si consolida con la complicità di venere in campo pratico e lavorativo giornata intensa costellata di impegni che vi tengono sotto pressione distribuite bene le energie se volete reggere un capricorno giornata particolarmente favorevole in molti settori straordinaria l'energia vitale iniziative da prendere nel lavoro non date peso ad una critica poco costruttiva mantenetevi su posizioni sempre sicure in campo economico acquario oggi potrete contare su circostanze ideali per ottenere stima e fiducia il magnetismo personale e successi in società sono garantiti una conquista velozinga venere gioca per voi e vi stimola ad aggiungere ingredienti nuovi nella vita di relazione pesci siete proiettati verso gli altri cercate di non trascurare i vostri bisogni personali per farvi assorbire da problemi o tensioni che sono invece da neutralizzare circostanze favorevoli per poter maturare scelte positive nel lavoro dimostratevi autonomi e fate a meno di aiuti esterni